Namaste, io sono Est Brave e con me sta giocando Yuga Ciao a tutti! E questo è Alien vs Predator Scusate ma... è troppo bello guardare Schwarzenegge Oh, adesso sono qualcosa in corsa, forse... Cos'è questa cosa enorme? Se dobbiamo sparare tantissimo... E' un abbat mobile! Ce ne sono sempre di più Ah ok, quindi possiamo sparare a caso ovunque Ok Bello sto stage Mi sposto un attimo così si capisce che siamo in due In queste posizioni molto... Ah basta sparare su un lato uno e su un altro lato Esatto Siamo in simpatia Oh! Perchè? Queste dimostrazioni di arroganza a caso Perchè se non urlo almeno una volta l'episodio Beh, abbiamo ucciso un mostro invisibile E' vinto tu Oh! Questa cosa posso bullarmi anch'io Dicendo PERCHEEE Dicendo CAN! Esatto E siamo pieni di citazioni questo video Assolutamente si Quindi già è round 4 Andiamo di... No, tieni Tieni Che bello Tieni Grazie Ah bellissimo, già lo possiamo passare così Nooo! E' volato nel nulla Oh! Un alieno che ha appena vomitato un pollo Un pollo! Altra citazione Ma perchè non usare un lanciagranate? BAM! Ops! 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 Però almeno una cosa devo dire Almeno si sono sforzati a cambiare il colore degli alien Che non sono tutti uguali Perchè... Sono andati allo stilista del clan del piede Della tartaruga ninja E' vero Infatti alla fine sono i cugini brutti di Krang Ma perchè ti caricano cercando di tirarti le testate degli alien Si chiamano smasher Ma ci sono delle persone No no, qua sotto ci sono delle schifie No no, occhio Moriii! No, scivolate! Giù e... Ah ok Ah io faccio le scivolate con la mano Esatto Tu fai... Imprecando Esatto Sono un po' di bombe Io faccio invece... Io faccio invece... Bellamente Queste sono bombe di Punisher tra l'altro Si esatto La Capcom non sa Il gioco che funziona non si cambia Attenzione gli zombie Ah! Gli infectoidi! Da notare un coltello grande come la faccia dei nemici Ho un po' di uova a caso da distruggere Dove sei? Io faccio l'iscio Ryuken dal nulla Hai otto secondi di cosa infinita il giro stock E poi diventa però Attaaa! Nooo! Cose indicibili che non si dicono Sono finiti? Ah ok Andiamo in posti a casa Ah! Cioè tu riesci a... A annusare il pericolo Tu probabilmente Non io No no Hai detto tu Ismail Danger Ah! Perché giustamente è un cyborg No! Gli hanno messo il radar nel naso Dai classici Non ci sono porte Ma quando... Escono dalle fottute pareti Chiedo scusa No! Questa ci vuole la citazione E' l'unica volta in cui la citazione è congrua No! Ci sono come i dinosauri Di Cadillac Dinosauri Quelli che ti dicono Danno le testate Ah! Ma ne hai preso tu il giavellotto Quattro hai preso una granata Ah! E questi condormivano Scusa ma... La spranga nel futuro... Ci sta sempre Aspetta aspetta Si! La classica spranga da Don Bro Il tubo Yeeeeh! Che arroganza Au! Io lancio gente a caso E soprattutto No! Non funziona Eh no perchè non puoi usarla per sempre Ah perchè no Non puoi... Niente di energia No perchè vedi hai la barra sotto Tu hai energia No 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 Non dico lo spam Ah la super E' la super E' la super E' la super E' tutti i tasti credo Ah! Io faccio questa Io dopo la provo Io dopo la provo So, arrivo che... Andiamo... Sempre più avanti Si Se non si era visto Che gli ho tirato un po' di pugni Oggi ci sono schifezze che... Camminano E tu ti lamenti anche quando ti prendono? Ma ci sono delle bombe qui Dai! Maledetto vermaccio Ah! Io ho la... Faccio rotteare vurticosamente il giavellotto Mappa! Come se non essere fastidioso Ma sono tante... Ecco! La cosa che hanno ricreato nel gioco è che sono tante Che sono tanti Molti, molti, molti Molti Milioni di milioni E sono anche i più resistenti che si fanno maledetti Ok, dovremmo esserci Sì Tu che fai sempre sfoggio di arroganza Ahia! Che è successo? Probabilmente è già colpito E io provo ad usare però adesso la tipa Eh, forse dovresti essere un po' più veloce adesso Sì Sì Spero che non sia stato il tuo colpito No, no, non posso colpire anche quello che stanno Prova ad esserci un boss Oddio! Giusto due uova Frittateina? Che schifo Che schifo Eh, ma già la regina, così Già la regina? Ah, che schifo La mia katana! No No Ok, mi seguo i contini Grazie Thank you Eh, cioè non già, veramente sono già la regina degli anni Io sto sparando in continuazione Cosa ho preso? No! Ci penso io La mia katana Non so lei che cosa serve Eh, per fare le mosse in salto, probabilmente Ah, probabilmente sì, è vero Adesso che ci penso A pugni Ma che è successo? E attenzione con un pugno! E ce l'abbiamo fatta All right! Oddio no! Abbiamo già sconfitto la regina alien Sarà finito qua? Non si sa Ah ha! Ah ha!